Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prestare attenzione per le avverse condizioni meteo con piogge sparse su tutta la rete stradale della regione. Sul tratto appenninico della A1 Nevischio tra Aglio e Sasso Marconi. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in entrata e uscita di Piave-Santo Stefano Sud in direzione Orte. La viabilità cittadina da oggi saggi archeologici per lavori di publieacqua in Viale Lavagnini chiuso il tratto via Leone X, Viale Strozzi in direzione Fortezza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!